L'ultimo che viene arrestato vince! Commetti più crimini che puoi? Sì, c'è, sei arrestato! Allora, in questo museo ci sono un sacco di cose da fare! Io faremo tutti! Ho comprato un sacco di reati! Scomprare e scomparare! Oddio, è bruciato! Sono evitato i campanelli di gente davanti al museo, quindi scompare velocemente! Scusa! Scusi, signor poliziotto! Non c'è arrestato! Io sono il signor poliziotto, Vito Catozzo! Ah! Vito Catozzo! Scusi, signor poliziotto, Vito Catorcio! Catorcio a chi? Vito Catorcio! Non vado di qua! Non vado di là! Perfetto! Alto che catorcio! Catorcio a chi? Poliziotto scelto Vito Catozzo! Ho una missione impossibile! Cercare di non fare rubare la corona della regina! Ce la farò! Se respiri in questo museo, vieni arrestato! Se ti scappa da ridere in questo museo, vieni arrestato! Se sei raffreddato e salutisci, vieni arrestato! Se sorridi in questo museo, vieni arrestato! E se ti vude il sedere nel mio museo, vieni arrestato! Ebbene, cominciamo con i nostri crimini! Sì, ma pescare sono già da scone! Pesca, pesca il tuo crimine! Scusa, qualcosa nella stanza del poliziotto! Ma è pericolositissimo! Te la senti? Difficile! Ok, allora vedremo se passerai questa challenge! Perché ovviamente se perdi, ti verrai arrestato! Sì, vabbè, niente! Con una bambina! Buona fortuna! Buona fortuna, Giada! Speriamo che perda, così iniziamo noi! Pensavo di fregarmi qua! Ma io sto attento a tutto, sento tutto, vedo! Mangio tutto, mangio due noccioline va, che servono! Pensavo di fregarmi! Ah, non mi frega nessuno qua Mi è rimasto pure incastrato il piede Fammi mangiare qualcosa Fate attenzione al poliziotto Vito Catoz Mi è venuta un certo fame Nocciolina Già da sarò stata Sì è ghiacciato Ho preso gli erochidi No, no, ma sei bravissima Hai rubato gli erochidi e il poliziotto buone Bravissima Giada Adesso vado io? No, ora tocca a me pescare No Cosa? Mi capiterà? Ho un po' di paura Fai spaventare il poliziotto Mi sono spaventato io Ovviamente senza essere arrestata Ma come faccio a farlo spaventare? È impossibile E' vero arrestata sicuramente Ok, mi devo far venire un'idea Forse però mi è venuta in mente una cosa Torno subito Mi sa che non la vedremo più la mamma Sarà in prigione Eh sì Arrachidi Cosa sono queste? Esci fuori Ove non è restato Cos'è questo rumore? Venire di là Aiuto Ce l'ho quasi fatta Ho quasi vinto E io non devo scappare Sono il capo guardia del museo Sono anche l'unico guardia del museo Devo mascherare quel fantasma Mannaggia Ma ho tantissima paura Smascherando Ho vinto io Sfida Paffata Ragazzi ragazzi No, non potete capire Ho studiato Ho studiato Le pene dell'inferno Ma ho vinto la sfida Sì Bravissima Mi ha arrestato Si è Tutto sotto Senti un po' di fuzza di cacchina Fuzza di cacchina Ma mi sa che è Ricky Vai Ricky Pesca il tuo bigliettino Ho un po' di paura Eh l'abbiamo fatta tutti La sfida Cosa mi capirà Vabbè Prendiamo questo Mangia tutti i cioccolatini Del poliziotto Ma è impossibile Io fallirò Verrò arrestato Verrò condannato a morte E verrà ricapitato Noi abbiamo dovuto fare anche di peggio Dai vai Dai cioccolatini Va bene È impossibile Secondo me verrà arrestato Passa pranzo Ah finalmente Stavo morendo di fame Finalmente vado a mangiare Finalmente un po' di relax Cosa vedo nei miei occhi Cioccolatini Quali mangio Pulcino Pecorella Buonissimo Fammi fare l'annuncio va Che nessuno mangi i cioccolatini Del poliziotto Vito Catozzo Ok Se no verrà arrestato Finalmente posso mangiarli Ah devo togliere la carta Finalmente sono sazio Questi ne mangio dopo Dai Facciamoci una bella dormitina adesso Amicetti Si è addormentato Adesso li rubo tutti i cioccolatini Potrei rubarli anche la pistola Però lascio qua Che non si sa mai Allora assaggiamone uno Magari sono avvelenati Ok Ok Sta ancora dormendo Meno male Ok Oddio 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 Allora Ok sta ancora dormendo Fortunatamente Assaggiamo questo Così E' buonissimo Prendiamoli più che possiamo E andiamo su Cioccolatini Cioccolatini Ah sono qua Io dico che non ce l'ha fatta E che non avrà neanche un cioccolatino Ragazzi ho fallito Non ce l'ha fatta E infatti ce l'ha fatta E che cioccolatini Buoni buoni Tieni tieni Gianna Che buona la campana verde Io tengo questi Che buono hai preso Che buon odore di cioccolato Che fame Buone Io non sono capace Comunque dobbiamo continuare Con le nostre challenge Ah hai ragione Tocca a me Li mangiamo dopo Tocca a Giada Come è Giada? Ce la puoi fare? Non tocca mai a me Tocca a te Speriamo bene L'uvo alle manette del poliziotto Ma le manette Sono attaccate I suoi pantaloni Ma dove fai? È impossibile Verrà arrestata No Verrà arrestata Vabbè intanto lei pensa a mangiare Che gli è fregata Eh infatti Cioè Prigione Ok Quindi Manette Eh sì Gada Dovresti andare Questo lo mangio io No No Ma dove sono le manette amicetti? Eccoli Amicetti le ho prese Fermati Avrestata Aiuto Aiuto No Aiuto Pensavi di farla a Vito Cadozzo Eh Ma non ce la puoi fare Hai capito? Sei in prigione adesso Sei ammanettata Guarda come sei ammanettata E non te ne andrai più Catorcio Fogno uscire Poliziotto cattivo Davi Catorcio a chi? Ah Adesso stai qua Dendo la prigione Non scapperai neanche più Hai capito? Ah Pensavi di farmela eh E invece no Rikki Mamma Aiutatemi Mamma Rikki Aiutatemi Dove Dove Oh no Giata è stata arrestata Cosa? Cavolo No Che cosa devo fare io? Leggevo questo Oddio Adesso come facciamo? Comunque ti volevo dire una cosa Giata è stata arrestata Quindi vuol dire che ce la giochiamo aiutare Vinci la io Giata si vincerà Sì come no Io Fai evadere il prigioniero Come faccio? La guardia è sempre lì davanti Cattoccio non ti muovi mai da là Un vado la troverai Dai vai vai Vale che vado verrà arrestata E io vincerò Ok Ce la posso fare? Sì sicuramente Mi devi inventare qualcosa Vado Vai ciao Mamma aiuta Rikki Non gridare Tanto non ti aiuterà nessuno Amicetti Non so proprio come fare A liberare Giata Guardate la sua situazione È là È imprigionata Ma lui non si muove da lì Che mi posso inventare? Non ho nessuna idea Dai Cervallo Dai Dai Ma certo Io sono un sacco di ninna nanna E sono una mamma Io ora mi metterò contorno Lieve Lieve Tranquilla Tranquilla E speriamo che lui si addormenti Dai ci proviamo Shhh Vado Ciao Pensavo noi farmela Ah Questi allocchi Senti Ma sento qualcosa Che sono Che sono un sacco di ninna nanna Ossondissimo Ossondissimo Ti canterò E se ti addormenti Mi addormenterò Ninna nanna nanna Mamma In sala Tantana Ce n'è Sette le Scutelle Sulla tavola Del re Ninna nanna Mamma Ce n'è Un Anche Per Me Dentro cosa C'è Solo un chicco Di caffè Mamma Ciada Sono qui Shhh Ho fatto addormentare Il poliziotto Forza dai Scappiamo Lascia qui Queste male Queste cose Dove le mettiamo Sì Lì Qua Qua Aspettiamo qui Shhh Dai non ricorri Scappato No Come un tasso Ciada ciada Ho un'idea Guarda qua Cosa c'è Bisogna Vado Tu fai Ti baffi Da questa parte Io li faccio Da questa parte Ok Vai Ninna nanna Mamma Tienimi Con te Nel tuo letto Grande Solo Per un po' Ninna nanna Mamma Io ti Conterò E se ti Adormenti Ti Adormenterò Ti Adormenterò Mi hai tolto Mi hai tolto Porco Mi hai tolto 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 eccovi ah ah qui stavi dicendo che non arriveranno mai no no intendo il McDonald's che ho ordinato su Deliveroo dai dai è la tua ultima sfida il problema è che tutti continuiamo a vincere ma è divertente non vincerà nessuno io non prenderò mai perché sono il più bravo quindi mi vado esco cosa hai pescato? cioccolatino no scherzo ed ecco qua il mio biglietto super fortunato che crimine dovrai commettere questa volta distrae il po' in sotto e ruba il diamante addio questo è proprio impossibile che schifo amicetti questi foglietti li dovevo tenere per la prossima challenge che schifo che schifo vai a farlo vado 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 non ce la farà mai lo sai perché Giada? perché noi adesso andremo a fargli un piccolo scherzetto per poter vincere ora te lo faccio vedere vai 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 scendi scendi sarà anche base appena rimango il miglior poliziotto di tutto il museo e poi la corona è ancora qua pensavano di farmelo ma io sono super intelligente guarda Riccardo è lì lo vedo e sai che cosa dobbiamo fare noi? dobbiamo schiacciare quell'allarme così avvertiamo la guardia e non resta che ne pensi? si abbassati abbassati dai andiamo là ma nooo dove cosa vado in sinistra? cosa faccio? cosa faccio? ehm ehm meno male la talsatura è ancora qui ok la corona anche il diamante pure ehm il cono hanno rubato tu non me la racconti giusta tu eri un pochino più in quattro fermo qua ok sei arrestato no no la prego hai tentato di rubare il cono eh già dagli l'abbiamo fatta poverino l'ha già arrestato siamo state un po cattivelle sì forse sì però abbiamo vinto da mio dieci attento a non cadere mi hanno arrestato sono stato tradito al mio stesso sangue sono degli infami sì comissario pronto sì 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 l'abbiamo arrestato sì 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 sa cosa stavano rubando il cono il cono poi l'arancione che cosa licenziato no si però almeno liberami aiuto no 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 no